Buonasera e benvenuti all'apputamento con il filo diretto del sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, nonché presidente della provincia di Salerno. Il sindaco salve e benvenuto, grazie di averci ospitato nel suo ufficio. Io volevo cominciare oggi in maniera un po' più leggera, più lieta, legandoci anche all'evento calcistico di domenica che ha visto la squadra della sua città, la Polisportiva Sarnese, conservare il campionato di Serie D. Sì, in calcio d'angolo la Polisportiva Sarnese, diretta dal presidente Urica e dall'allenatore, è riuscita a salvarsi e quindi a conservare il titolo e la permanenza nella Serie D. Siamo felici per la squadra, siamo felici per il presidente, per tutta l'organizzazione sportiva, ma anche per la città. Avere una squadra che milita in Serie D è comunque un prestigio per l'intera città. Quindi onore al merito e onore al presidente Urico che è riuscito con la Sarnese e con la Polisportiva a conservare il titolo e la permanenza nella Serie D. E' una buona notizia, certamente è una buona notizia. Quindi noi facciamo i migliori auguri alla Sarnese che è riuscita a salvarsi, ma che possa disputare un campionato, il nuovo campionato, ancora con maggiore forza. Parliamo alle cose meno lieti. Presidente della provincia di Salerno, oggi dire presidente di una provincia è qualcosa di strano perché noi pubblica opinione ci hanno educato che le province non esistono più, ma in realtà le province esistono e come? E le difficoltà sono tante. Siete andati a Roma a fare cosa? Beh sì, nella fantasia popolare oramai le province non esistono più ed è profondamente falso. Diciamo che c'è stata un'opera mediatica notevole a smontare prima del referendum e anche adesso nel momento post-referendario a smontare le province stesse. Io vorrei semplicemente dire che il referendum ha sancito intanto la permanenza delle province nell'asse incardinate nella Costituzione e quindi voglio dire nel rispettare soprattutto l'articolo 118 e 119 sull'autonomia finanziaria delle province è sulle funzioni che le province devono svolgere. Poi c'è la legge 56, la famosa legge del Rio che in tutta onestà io l'ho sempre condivisa condivido questo disegno delle province intese come aria vasta, così come dovrebbe essere perché ricordo ai nostri telespettatori che la provincia di Salerno è la seconda provincia d'Italia per estensione ma è una provincia ed è tra le prime province per numero di abitanti, la provincia di Salerno conta un milione e centomila abitanti, ci sono regioni d'Italia senza voler offendere nessuno per l'amor di Dio come la Basilicata che tutta la regione fa 400.000 abitanti quindi voglio dire mai come la legge del Rio pone l'accento forte sulle province intese come casa dei comuni come aria vasta, come un hub, come un interporto dove di comune accordo la provincia coordina tutto ciò che avviene all'interno della provincia stessa, coordina i comuni, funge da stazione appaltante, centrale di committenza tutto quello che poi alla fine noi abbiamo fatto in questi difficili e duri anni di lavoro insomma sono appena due anni e mezzo poi chiaramente ancora prima del referendum le province da legge di riforma, da legge 56 devono svolgere le cosiddette funzioni fondamentali che le ricordiamo in modo tale che capiamo di che cosa stiamo parlando quindi contestualizziamo la riforma parliamo di trasporti, parliamo di scuole, parliamo di viabilità, parliamo di ambiente e quindi tutto il ciclo integrato dell'ambiente cioè voglio dire e non mi sembra davvero poco no, l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, il ciclo integrato dei rifiuti insomma stiamo parlando di materie urbanistiche stiamo parlando di materie consistenti, forti, propositive, di programmazione fondamentalmente ma direi che le due azioni fondamentali quelle che suscitano più scalpore, che suscitano più interesse sono viabilità e scuola sono queste le due funzioni sulle quali mancano completamente i fondi e sulle quali sia noi dell'UPI nazionale ma sia tutte le province italiane si sono ritrovate sotto la guida del presidente Variati e sotto la presenza di De Caro, il presidente dell'ANCI mai come questa volta completamente insieme oramai non c'è più distinzione tra ANCI e UPI siamo due facce della stessa medaglia siamo insieme per chiedere al governo nazionale, al governo centrale i soldi necessari e fondamentali per scusatemi e la palissiano ma per trovare i soldi necessari, le economie fondamentali per dare risposta ai territori per dare risposta ai cittadini, agli automobilisti ai presidi e ai ragazzi sia sulle strade sia sulle scuole ci servono 650 milioni questo non lo diciamo noi dell'Unione Nazionale delle Provinci questo lo dice una società che lavora per il MEF, il SOSE e questo lo dice la Corte dei Conti perché la Corte dei Conti usando un verbo un tantino meno tosto dice che la manovra di stabilità economica l'ultima manovra è irragionevole per non dire folle ha usato questo termine è irragionevole ma è irragionevole, è irrazionale in quanto non si può per legge pretendere dalle province italiane di provvedere a 135 mila chilometri di strade cioè le province italiane provvedono a 135 mila chilometri di strade e per quanto riguarda gli edifici scolastici provvedono a 5.041 edifici scolastici senza soldi quindi quello che noi chiediamo chiediamo nel rispetto della Costituzione nel rispetto dei territori nel rispetto dei cittadini che vivono i territori delle province italiane di dare risposta al 75% perché di questo che stiamo parlando del territorio italiano cioè quello che abbiamo chiesto abbiamo chiesto i 650 milioni abbiamo chiesto che non partino sanzioni perché tra l'altro dovrebbero partire anche sanzioni ma non devono partire sanzioni in quanto noi da due anni a questa parte non riusciamo nei termini di legge a fare nel bilancio di previsione nel bilancio consuntivo perché il bilancio di previsione lo chiudiamo a fine anni per mancanza di fondi cioè c'è uno squilibrio totale tra la spesa corrente e il conto capitale cioè noi stiamo lavorando per dirla quasi in condizioni estreme in condizioni estreme perché ci hanno chiesto da due anni a questa parte tutto è partito nel 2014 con la famosa 190 dove nella 190 venivano sottratte alle province italiane un miliardo per il 2015 un miliardo per il 2014 2015 e 2016 nel contesto 3 miliardi di euro cioè 3 miliardi di euro sta a significare che noi da 9 miliardi che era lo storico delle province italiane siamo scesi a 6 miliardi questo sulle funzioni fondamentali ha significato uno stop nella programmazione uno stop negli investimenti uno stop nella manutenzione ordinaria e straordinaria cosa ci rimane da fare? ci rimane da fare quello che noi abbiamo chiesto al governo di provvedere con gli emendamenti sia per quanto riguarda la spesa corrente nella manovra che dovrebbe vedere la luce tra qualche settimana sono stati previsti invece dei 640 milioni certificati dal Sose non dal Lupi dal Sose invece dei 640 milioni sono stati previsti 110 milioni di euro 110 milioni di euro basterebbero soltanto probabilmente dalle tre province campane forse basterebbero per Salerno per Avellino neanche per Caserta perché Caserta si ritrova in una situazione di disastro economico di disastro finanziario e al momento non c'è una normativa capace di farli uscire dal dissesto noi siamo stati capaci di fare questi capolavori negli ultimi tre anni io così da magari chi ci sta ascoltando dice ma com'è possibile tolgono i soldi e poi pretendono addirittura lei mi parlava di sanzioni tolgono i soldi e poi pretendono che le province tengono in vita le scuole asfaltino le strade ovviamente pagando anche la macchina provinciale che deve provvedere a fare tutto questo ma non è qualcosa lei ha detto assurdo io vorrei andare oltre ma come si fa a immaginare una cosa del genere avete avuto voi del lupi un contatto con il legislatore con chi governa con chi ci governa ma noi in continuazione abbiamo chiesto contatti abbiamo chiesto di riparare a questa iattura ma se la Corte dei Conti ha usato un termino irrazionale e irragionevole credo che da questo punto di vista dal punto di vista sintattico che da un punto di vista come dire di funzione devono necessariamente iniziare a pensare che qualcuno e le province anche dopo il referendum del 4 dicembre le province devono ritornare sulle loro funzioni devono ritornare a fare le cose che facevano e che facevano bene ma per fare tutto ciò servono i soldi quindi la manovra economica la manovrina economica deve necessariamente riparare a questi danni nei decreti né gli emendamenti che sono stati presentati c'è una richiesta non soltanto di raddoppiare i 110 milioni previste e quindi di portarli a 240 milioni di euro ma sono stati richiesti anche 300 milioni di euro dall'ANAS il paradosso vi do un'altra misura per capire altri dati per capire come si affrontano determinati ragionamenti in maniera veramente irragionevole cioè l'ANAS provvede a 26 mila chilometri di strada per l'ANAS sono stati previsti la bellezza di 11 miliardi di euro in 5 anni per 26 mila chilometri di strada a conti fatti ogni chilometro di strada fatta dall'ANAS costa 22 mila euro ma tutto ciò non questo visto che negli ultimi 8 mesi sono crollati tre ponti quindi voglio dire bene hanno fatto a metterci 22 miliardi di euro in 5 anni sono 2 miliardi e 200 benissimo benissimo insomma perché sulla sicurezza e sulla viabilità non si scherza sia per i pedoni sia praticamente per gli automobilisti ma come è pensabile che per 135 mila chilometri di strada quelle che devono essere curate dalle province siano stati previsti 110 milioni di euro cioè il costo storico che le province hanno affrontato prima della riforma del Rio prima del 2014 è che ogni chilometro di strada manutenuto dalla provincia e riasfaltato dalla provincia viene a costare 6-7 mila euro di euro ora il 75% della viabilità italiana è affidata alle province e il 75% della viabilità italiana tanto per essere chiari l'Italia ha pochissima pianura cioè l'unica grande pianura italiana è la pianura padà poi parliamo di agro ovunque parliamo di agro cioè non parliamo di queste sconfinate pianure californiane tanto per essere chiari quindi questo sta a significare che il 75% che buona parte del 75% della viabilità italiana è o è pedemontana o è montagna quindi uno Stato ragionevole dovrebbe freggiarsi di avere le province che provvedono alla manutenzione ordinaria di queste strade alla modica cifra di 6-7 mila euro al chilometro senti ma lei a settembre aprirà le scuole superiori devo aggiungere altro infatti io non non contanno assolutamente all'ANAS vanno riconosciuti perché ma perché l'ANAS chiaramente ha una le loro competenze sono su strade di scorrimento veloce quindi certamente la sicurezza è indispensabile è necessaria quindi io non contesto la cifra che è stata affidata all'ANAS la contestazione la faccio sulla cifra che vogliono affidare a noi per un numero di chilometri di strade esorbitante questo contesto è contesto che a noi quei soldi che ci daranno voglio sperare che ci rideranno i 650 milioni servono indispensabilmente necessariamente per provvedere ai 135 mila chilometri di strade e ai 5.040 edifici scolastici che dobbiamo mettere assolutamente in sicurezza ecco allora abbiamo parlato di strade l'anno scolastico volge al termine ovviamente già guardiamo a settembre quando riapriranno lei riaprirà le scuole di competenza provinciale cioè le scuole medie superiori guarda ti do allora faccio due esempi il primo esempio è il presidente della provincia di Pescara io credo che uno stato e le istituzioni uno stato che si rispetti e le istituzioni che si rispettino non possono assolutamente essere causa e danno di quello che è successo al presidente della provincia di Pescara il presidente della provincia di Pescara per i fatti di ricopiano dove da un punto di vista finanziario ed economico non c'entra assolutamente nulla perché nulla poteva fare visto il disastro economico arrecato alle province dal 2014 ad oggi si è ritrovato con un avviso di garanzia per omicidio plurimo colposo allora noi non è che ci sentiamo abbandonati come presidente delle province noi ci sentiamo traditi e non ci sentiamo disponibili ad affrontare un calvario perché non lo meritiamo perché il disastro economico che è stato fatto alle province certamente non è demerito dei presidenti delle province noi ci siamo ritrovati in una situazione di disastro di sfascio voluto dallo Stato e con quei pochi mezzi che ci siamo ritrovati abbiamo fatto del nostro meglio però nessuno può chiedere a un presidente di provincia un avviso di garanzia per omicidio plurimo colposo dove effettivamente il povero presidente della provincia di Pesca centra come un cavolo a merenda e la seconda considerazione la seconda considerazione è che nessuna istituzione può chiedere a un uomo di sacrificarsi ma per che cosa per che cosa cioè noi vogliamo sacrificarci noi quello che abbiamo chiesto in più sono i 240 milioni di euro che sono il risparmio il risparmio totalizzato in questi anni per non aver pagato e io sono sono onorato di non percepire ma anche i consiglieri provinciali sono onorati di non prendere stipendi non ne vogliamo non ne vogliamo però i 240 milioni risparmiati da tutti i presidenti e da tutti i consiglieri delle province d'Italia devono essere messi a disposizione delle province italiane io credo che sia una cosa di una serietà unica perché se mettono a disposizione i 240 mila euro risparmiati più i 110 sono 350 più i 300 dell'ANAS abbiamo con poche cose recuperati i 650 milioni indispensabili per far fronte alle tante emergenze seconda considerazione il presidente della provincia di Caserta in questo momento lui sta chiudendo strade sta chiudendo scuole ma secondo te visto che questi soldi servono per funzioni fondamentali come scritto per legge come chiesto dalla Costituzione italiana chi può chiedere chi può chiedere a un presidente di provincia di rischiare avvisi di garanzia chi lo può fare ma lei le scuole le apre a settembre guarda se non ci mettono soldi tutte le scuole che non sono in condizioni di agibilità le chiuderò la settimana nei giorni scorsi qui è stato nella sala consigliare a fianco al suo ufficio il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che ha lanciato una come dire alla provocazione ma non credo che sia stata solo una provocazione del suo collega di Caserta di chiudere scuole e strade ha detto la regione provvederà in qualche modo ma la soluzione è quella delle regioni che aiuteranno le province ma la regione già ci aiuta perché tutto ciò che noi stiamo facendo che abbiamo fatto in questi due anni cioè dalla Cilentana dall'aver fatto fronte a tanti altri piccoli ma sono tutti i soldi ex accelerazione della spesa ridecretati riammessi a bilancio perché poi si è dovuto saltare anche tutta la storia europea perché non è mica semplice recuperare i soldi ridecretarli rimetterli in equilibrio di bilancio in bilancio armonico e poi spenderli è quello che stiamo facendo ma il mio grazie al governatore De Luca è sconfinato perché la Cilentana l'abbiamo sistemata grazie ai fondi della regione Campania così come stiamo facendo abbiamo iniziato a fare per tante altre strade e così come il governatore nell'aula consigliare di qualche giorno fa qualche settimana fa ci ha tenuto bene come dire a mettere l'accento su tre grandi problematiche che sono la viabilità che sono la depurazione delle acque e che sono le aree mercatali cioè questi tre problemi sono i tre problemi centrali dell'agronocerino sarnese è la mobilità è il trasporto per cui con i 350 milioni di euro che sono stati destinati all'agro sarnese nocerino con oculatezza e con accuratezza noi questi quattro problemi che sono problemi oramai decennali ma veramente li possiamo chiudere tranquillamente non certamente per fine legislatura regionale ma da questa legislatura e gli altri cinque anni sicuramente noi possiamo mettere a regime e risolvere definitivamente questi problemi la depurazione delle acque noi il 25 maggio si terrà finalmente il passaggio la consegna il passaggio della rete fognaria del piano produttivo industriale finalmente la agganciamo la lacciamo al depuratore del medio sarno e arriverà alla depurazione in fase finale fino al collettore al depuratore ci sono voluti dieci anni e forse più di dieci anni cioè noi e tutto ciò che regime fognario poi ogni comune ha una percentuale di fogni ancora da realizzare noi li andremo a realizzare perché è stato difficile io ringrazio anche l'Arcadis perché senza l'Arcadis questo lavoro di raccordo e questo lavoro di collettazione soprattutto di riavvio delle gare perché io voglio ricordare che le gare o per conflitti o per tarro o per sospensione o per consiglio di stato insomma tantissime gare dovevano essere rilanciate e devo dire che con la guida dell'ingegnere Marrazzo buona parte di questo lavoro era stato riavviato noi siamo stati accompagnati in questo lavoro abbiamo pagato stiamo pagando gli espropri finalmente il comparto casasale i nostri cittadini che abitavano in quelle case in quegli appartamenti ma che non potevano letteralmente stipulare un atto notarile di proprietà non si poteva fare beh insomma noi abbiamo provveduto stiamo provvedendo abbiamo già intestato a dieci nostri concittadini l'appartamento ma erano quindici anni che tutto ciò non si faceva quindi voglio dire stiamo ripartendo con gli espropri e li stiamo pagando stiamo ripartendo con gli accatastamenti e li stiamo facendo con gli atti notarili stiamo di nuovo in gara per le fogne stiamo allacciando le condotte che ci sono beh io credo che questa amministrazione questa filiera istituzionale finalmente parla la stessa lingua io le volevo chiedere lei prima può essere lei dal punto di vista politico politico bar amministrativo può essere definito il collettore tra la regione e l'agro nocerino sarnese cioè questa frequentazione politica con il governatore De Luca sta dando dei risultati importanti lei può essere definito come dire colui il quale si fa lo snodo tra regione e territorio io intanto devo ringraziare i sindaci perché i sindaci dell'agro in questo momento hanno manifestato una grande coscienza e una grande consapevolezza dei tempi che viviamo dei tempi che viviamo per cui su questi aspetti quello che portiamo insieme dal governatore De Luca è perché parte da questo territorio e il governatore con la sua sensibilità effettivamente ascolta i territori ascolta i sindaci ascolta le amministrazioni comunali e questa filiera funziona ma funziona a partire dalla base arrivando all'apice funziona perché c'è una buona armonia tra i sindaci dell'agro sarnese e nocerino indipendentemente guarda dalle collocazioni politiche perché le strade che funzionano che sono tenute buone che sono tenute a norma che ci sia una depurazione efficiente che ci siano dei trasporti efficienti questo non è un merito di un'amministrazione o meglio di un colore politico di appartenere è merito di quelle amministrazioni che fanno sì che le cose buone e che il governo del territorio funzioni funzioni ma comunque sembra che ci sia un'attenzione diversa da parte della campagna regione campania su questo territorio sull'agro nocerino sarnese è indiscutibile che ci sia da parte della regione campagna un'attenzione maggiore sull'agro sarnese nocerino medico su tutta la regione campagna ma sicuramente questo territorio perché si è sentito molte volte emarginato perfetto c'è un'attenzione massima su questo nostro territorio perché veramente per decenni siamo stati un po' la cenerentola siamo stati un po' dimenticati vogliamo passare alla sua città che come dire è diventata proprio ospitando più di una volta De Luca è diventato come voglio dire uno snodo come dicevo prima di collegamento tra regione e territorio una domanda lei ha detto De Luca fa molta attenzione a quello che dicono i sindaci e quello che propongono i sindaci perché lui è stato sindaco beh sicuramente sì perché non soltanto è stato sindaco ma è stato un bravissimo amministratore un grande amministratore e quindi sa bene che quando i sindaci pongono un problema lo pongono in maniera ragionevole in maniera razionale e perché è sentito dai territori fortunatamente questa filiera istituzionale funziona e funziona bene perché chi è stato sindaco oggi è presidente della regione Campania chi è stato molte volte chi è stato chi è consigliere regionale è stato sindaco per cui quando parliamo di determinati problemi parliamo la stessa lingua ci capiamo a volo passiamo a Sarno io prima tra le carte che il suo ufficio stampa così cortesamente mi ha preparato leggevo quello di una problematica legata a delle demolizioni un argomento che quando viene trattato dalla classe politica amministrativa genera sempre qualche problema beh sì indubbiamente genera qualche problema perché sappiamo bene quanto in Italia essere proprietari della propria essere proprietari dell'abitazione in cui si vive è sentita è sentita forte questo argomento è molto molto sentito e quando si è sentito soprattutto in Italia Meridionale perché la maggior parte delle abitazioni sono abitazioni frutto di tanti sacrifici frutto di tanti di tanti problemi superati sappiamo bene sappiamo bene che la famiglia meridionale dopo la mamma al secondo posto c'è sicuramente la propria la propria casa insomma è quasi è quasi sacro però nel rispetto della legalità le ha ribadito e questo è fondamentale insomma purtroppo purtroppo tutto ciò che è legale tutto ciò che è legittimo deve essere deve essere garantito io ho già detto siamo stati in procura giorni fa invitati dal dottor Cacciaputi noi abbiamo abbiamo avviato degli abbattimenti ma era necessario era indispensabile con una griglia insomma di comune accordo il consiglio comunale e l'ufficio tecnico lì dove non c'è bisogno della politica perché per legge viene sancito o dalle procure o perché non è superabile con un atto politico io credo che l'ufficio che l'ufficio d'emblè possa possa provvedere direttamente agli abbattimenti noi ne abbiamo fatti ne abbiamo fatti già tre e tra l'altro ho visto con grande che c'è una coscienza civile notevole perché partiti con gli abbattimenti molti cittadini che sanno bene di aver realizzato opere abusive scheletrati sono venuti di loro spontanea iniziativa a dichiarare che prossimamente abbatteranno ciò che hanno realizzato in maniera abusiva quindi voglio dire c'è anche un grado di consapevolezza di coscienza civile nella nostra città che fa onore alla città stessa ma che fa onore al nostro territorio io ci tengo a dire che lì dove oggi sapete che c'è in discussione ancora la legge la legge falanga che dal senato è passato alla camera c'è anche in regione campagna allo studio non un condono ma una sanatoria ma una sanatoria che che tenga presente che non può superare i vincoli paesaggistici non può superare i vincoli archeologici non può superare i vincoli urbanistici e soprattutto non può superare lì dove ci sono perimetri o aree rosse non può superare i rigidi i rigidi limiti delle aree rosse cioè voglio dire a Sarno c'è ancora una linea rossa va bene lo sappiamo tutti quando sappiamo bene che è il risultato purtroppo di quella tragedia del 5 maggio 1998 ora io mi appello ai nostri concittadini al loro buonsenso al loro senso civico forte se noi non vogliamo più che il 5 maggio si possa ripetere dobbiamo anche essere conseguenziali e dobbiamo sapere che all'interno della zona rossa è vietato completamente qualsiasi manufatto quindi chi ha determinato o ha costruito in zona rossa si allerti a demolire prima che arriviamo noi a demolire Sarno tra le altre cose ha un'area industriale la zona PIP estremamente molto grande con tante aziende con tanti insediamenti che però fino a qualche tempo fa non era tenuta al meglio tra i vostri interventi leggo questo nuovo intervento questa rimodulazione dell'area PIP insomma immaginate di renderla veramente operativa e soprattutto efficiente dal punto di vista urbanistico guarda noi in questi due anni probabilmente sull'area PIP veramente abbiamo lavorato tantissimo ma tantissimo tantissimo ascoltando gli imprenditori ascoltando gli industriali risolvendo a loro i problemi relativi alla produttività alla produzione abbiamo risolto il problema relativo a una scarsa potenza elettrica e quindi questo è stato il primo grande risultato abbiamo portato una potenza all'interno dell'area PIP sufficiente che già da quest'anno i nostri industriali non avranno problemi di carenze elettriche e questo problema è stato affrontato dalla direzione generale dell'Enel abbiamo fatto anche un convegno qualche anno fa giusto un anno fa presso la sede di Confindustria all'epoca era ancora il dottor Maccaoro il presidente e il presidente Maccaoro si congratulò con tutti i comuni compreso Sarno che avevano provveduto rapidamente a realizzare o in via di realizzazione le opere per far fronte alle esigenze di potenza elettrica così come con la Gori la Gori oggi ha in affidamento non soltanto il ciclo totale delle acque sia la distribuzione dell'acqua potabile sia la raccolta delle acque bianche e delle acque nere tant'è che il 25 maggio finalmente avremo anche le fogne nell'area PIP e voglio ricordare l'area PIP è una delle più grandi aree industriali della provincia di Salerno cioè parliamo di un milione di metri quadri di area industriale dove ci sono società per azioni leader in Italia e leader nel mondo penso per un momento alla Doria che ha otto stabilimenti di produzione sparsi in tutto il mondo e penso anche alla Jaguar cioè insomma aziende leader sia come fatturato ma sia come presenza nel mondo come produzione e poi abbiamo tante altre aziende che lavorano materiale plastico che lavorano l'acciaio che lavorano l'alluminio che lavorano leader in tutti i settori avevamo ancora altri lotti da assegnare sta per partire un bando per assegnare gli ultimi lotti insieme al consorzio al CAIS insieme al consorzio e con il presidente Adiletta abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa comune e consorzio per mantenere l'area industriale in un'azione decorosa di pulizia beh insomma questo protocollo di intesa incomincia a dare i suoi primi frutti perché l'area oggi non è più completamente abbandonata c'è un'azione di sorveglianza continua anche grazie alle forze dell'ordine sia al commissariato che ai carabinieri ai quali ho chiesto una presenza maggiore sull'aria anche perché c'erano cose poco chiare quindi ho chiesto al questore di Salerno della provincia di Salerno o al colonnello Neosi una maggiore azione che si è tradotta immediatamente in una presenza cospicua delle forze dell'ordine nell'aria abbiamo interdetto per il momento alcune strade che non erano ancora collaudate le abbiamo interdette in modo tale che abbiamo evitato che tanti microcriminali sversassero sversassero rifiuti o abbandonassero rifiuti nell'area industriale bisogna andare avanti bisogna costruire una società di servizio che questo faccia insomma all'interno dell'area di produzione industriale abbiamo anche illuminato meglio il piano produttivo industriale cioè io credo che da un punto di vista di infrastrutture tutto quello che c'era da fare noi lo abbiamo lo abbiamo fatto adesso credo che di comune accordo tra comune il consorzio degli imprenditori bisogna necessariamente far nascere una società una società di servizi all'interno dell'area industriale poi si parlava anche di questa famosa bretella che dovrebbe collegare l'area PIP con l'ingresso dell'autostrada perfetto anche questo è stato presentato in regione Campania per facilitare entrate e uscite dall'area industriale sarà prevista una rotonda ma questo per migliorare la mobilità all'interno la logistica e la mobilità all'interno dell'area industriale stessa prima lei parlava delle forze dell'ordine con questi interventi nella zona industriale che mi dice invece della sicurezza in tutta la città anche perché ci sono stati degli episodi nei mesi scorsi che comunque hanno portato un po' di allarme ci sono stati episodi raccapriccianti ma frutto di qualche soggetto neuropsichiatrico insomma c'è semplicemente da compiatire poi c'è stato qualche gesto insulso mi riferisco anche a ciò che ha subito il vice sindaco qualche scritta infame nei confronti del sindaco e dell'amministrazione io credo che tutto ciò guardi non crea danno al sindaco o all'amministrazione crea danno alla città di Sarno perché questa amministrazione si sta impegnando tantissimo per dare un'immagine della città e permettetemi di dire insieme agli altri sindaci noi stiamo cercando di dare un'immagine del territorio che sia un'immagine diversa un'immagine di rilancio di questo territorio un'immagine di eccellenza di questo territorio perché abbiamo tantissime eccellenze quindi quando si scrive contro l'amministrazione io sono pro tempo alla fine tra cinque anni mi ripresenterò se i cittadini avranno gradito il lavoro fatto mi rivoteranno non l'avranno gradito insomma passerò la palla insomma qua nessuno è a tempo infinito ognuno di noi ha un tempo per cui democraticamente quando ci ripresenteremo metteremo sul piatto della bilancia quello che è stato fatto se quello che è stato realizzato non è stato accettato vuol dire che si voterà qualcun altro insomma quindi noi viviamo in una situazione di democrazia ma come dire insomma imbrattare i muri della città è fondamentalmente un'offesa alle istituzioni perché poi queste scritte non inneggiavano soltanto contro Canforo contro l'amministrazione ma in alcuni casi anche contro qualche magistrato cioè che devo dire è volgare senta mi tocca una curiosità quando sono venuto questa mattina a Sarno quando capito qui a Sarno passo sempre nella piazza dove c'è questo teatro io da non cittadino di Sarno si faccio il giornalista ma non posso essere informato su tutto ma mi spiega è una curiosità mia personale ma mi spieghi perché quel teatro è diventato un monumento così di con questa chiusura ma qual è il problema perché non si riesce ad aprire a renderlo operativo perché bisogna farci alcuni lavori dentro perché purtroppo il teatro c'è stato pure vandalizzato da personaggi da personaggi questo è anche motivo dell'abbandono un'opera abbandonata viene vandalizzata purtroppo purtroppo un'opera realizzata e non funzionante viene come dire abitualmente viene vandalizzata purtroppo e certo ci sono stati diversi atti vandalici all'interno del teatro oggi abbiamo finalmente di nuovo come dire nei binari giusti tutta la situazione dobbiamo soltanto appaltare l'opera insomma i danni sono stati tra ciò che si doveva fare perché il teatro non era finito era l'altro cioè bisognava fare alcune opere tra l'altro altre opere sono state opere risultati di un danneggiamento dell'aeromoto che c'era stato qualche anno fa quindi tra i danni tra i danni arrecati i danni determinati dall'aeromoto e non pagati alla ditta perché non li abbiamo pagati quei danni anzi la ditta la prima ditta doveva darci dei soldi e li abbiamo trattenuti quindi oggi per farlo funzionare abbiamo bisogno di circa 400.000 euro i 400.000 euro ci sono dobbiamo la determina è pronta dobbiamo soltanto come dire trovare la copertura finanziaria per altri 50-60 mila euro e poi dare l'appalto per completare l'opera un giorno ci sarà questo teatro o non lo so un incontro una sala convegni quello che potrà essere io ho dato la mia parola che per fine anno apriamo il teatro lei prima parlava di eccellenza parlava di ridare una dignità diversa a questo territorio è noto tra le cose che la sua amministrazione fa un atteggiamento importante verso l'arte io spesso leggo le attività che svolgete in questo comune molte volte si parla di premi di convegni l'ultima volta mi ha incuriosito molto questo museo di arte urbana con il coinvolgimento degli studenti insomma mi sembra che ci sia questo sguardo da parte dell'amministrazione canfora verso la cultura io credo a differenza di qualche ministro di qualche anno fa che diceva che con la cultura non si mangia io penso che la cultura sia fondamentale per non solo per far sì che si possa mettere tavola tanto per essere chiaro ma senza cultura non si creano posti di lavoro cioè la cultura è fondamentale in tutto è fondamentale per l'industria è fondamentale per la tecnologia è fondamentale per le scienze è fondamentale per la scuola cioè e credo che questa amministrazione abbia dato grande spazio alla scuola alla scuola io voglio ricordare per i nostri rispettatori che la scuola dell'obbligo italiana la scuola dell'obbligo è al sesto posto nel mondo sesto posto nel mondo questo sa significare che la scuola dell'obbligo elementare a me è una grande scuola ma è una grande scuola sul serio sul serio è una grande scuola perché chi ci lavora dai docenti ai dirigenti agli ausiliari lavorano bene lavorano nell'interesse dei bambini perché tra l'altro il transfer che un bambino fa tra la mamma e la maestra è lo stesso cioè il bambino che va all'elementare vede vede nella maestra la seconda mamma quindi è un rapporto affettivo un rapporto educativo un rapporto didattico un rapporto pedagogico e la scuola elementare la scuola dell'obbligo è tra le migliori scuole del mondo questo lo dico io lo dice l'istat lo dicono le prove invalsi lo dice uno dei più grandi psichiatri italiani che è Umberto Calimberti quindi onore alla scuola noi abbiamo voluto delle consulte la prima che è partita è stata la consulta scolastica noi abbiamo investito tantissimo sulla scuola sulla scuola viva sulla scuola vera abbiamo fatto progetti di alternanza scuola lavoro cioè noi abbiamo avuto dalla regione Campania sulla scuola viva sei progetti finanziati sei progetti finanziati noi abbiamo avuto dall'alternanza scuola lavoro sia con il liceo classico sia con gli istituti scientifici sia con gli istituti tecnici abbiamo fatto dei progetti di alternanza scuola lavoro comune e scuola beh io credo che questa amministrazione sia attentissima a tutto ciò che ci viene dal mondo scolastico abbiamo lavorato sempre in sinergia massima con i dirigenti sia delle scuole del lobby che delle scuole delle scuole superiori basta dire che il liceo classico il liceo scientifico il dirigente Vastola ha tradotto in cinese un opuscolo che riguarda il museo archeologico di Sarno l'ha tradotto in cinese beh io dico a loro che le bellezze del museo archeologico di Sarno sono tra le prime al mondo tant'è che le nostre bellezze scavate nei nostri territori esposte nel museo archeologico di Sarno sono volate prima in America e poi in Cina dove sono ancora in esposizione cioè noi abbiamo nel nostro museo dei preziosi reperti di oro o di vetro che sono unici al mondo non li trovate veramente come come fattura come grandezza come bellezza sono cose incredibili di un'incredibile bellezza e anche con la dottoressa Alfinito proprio sull'alternanza scuola-lavoro abbiamo portato avanti tantissimi progetti tantissimi progetti noi io ho voluto con forza con la provincia di Salerno che nascessero i distretti turistici noi abbiamo 12 distretti turistici in Campania di cui 7 soltanto in provincia di Salerno credo che i distretti turistici insieme all'area di crisi perché l'area industriale di Sarno sta nell'area di crisi ma i distretti turistici tra promozione fatta dai comuni e promozione dovuta dagli imprenditori dai privati perché questa storia dei distretti non si è ancora capita fino in fondo cioè tutti coloro degli imprenditori privati che concorrono a rilanciare la filiera agroalimentare e il distretto turistico possono avere degli sgravi fiscali enormi noi questa storia la dobbiamo raccontare meglio perché non si è capito ancora bene e non si è capito nel profondo le potenzialità massime del distretto turistico diciamo che può essere anche un modo diverso un modo nuovo ma soprattutto più moderno mi consenta la battuta visto che l'era internetiana ormai ci sovrasta 4.0 addirittura guardando domani 5.0 di promuovere il territorio noi stiamo appuntando sia in provincia sia qua in provincia stamattina probabilmente partiva un avviso pubblico per chi vuole aderire abbiamo fatto un progetto inter legge 56 noi l'abbiamo interpretata bene le leggi 56 se ci ascoltano e ci danno i soldi le province italiane riavranno un ruolo da grande protagonista le aree vaste tra l'altro nella legge 56 le aree vaste possono anche collaborare tra di loro noi abbiamo messo in questo momento 3 regioni e 6 province insieme 3 regioni e 6 province insieme alla provincia di Lecce con una misura por con una misura por sulle attività produttive e turistiche noi stiamo rilanciando un'app per un portale turistico con il riuso cioè la provincia di Lecce garantisce la provincia di Salerno mettiamo insieme 6 province e 3 regioni Campania Puglia e Basilicata in tutto ciò c'è anche Matera capitale della cultura 2019 noi costruiremo un grande portale turistico che metteremo a disposizione di tutta la provincia di Salerno e di tutti i comuni di Salerno lei ha detto turistico spesso e volentieri nel nostro territorio quando dico territorio intendo l'agro nocerino sarnese si parla di turismo ma è utopia o un domani può essere un volano di sviluppo dell'intero economia no non è non è un'utopia però noi dobbiamo imparare a fare rete cioè non è un'utopia perché noi la provincia di Salerno ma la regione Campania abbiamo delle bellezze incommensurabili cioè noi nella provincia di Salerno abbiamo tre tre siti di riconosciuti dall'UNESCO insomma la costiera Amalfitana la Certosa di Padula e il Parco Nazionale del Cilento io penso che siano poche le province in Italia che possano vantare tre siti di UNESCO di bellezza mondiale e torno come vi faccio un passo indietro quando De Luca parla di viabilità di trasporto leggero di logistica cioè noi di che cosa parliamo parliamo di filiera turistica parliamo di filiera agroalimentare finalmente il concetto fondamentale è che noi dobbiamo avere una metropolitana leggera che possa portare i nostri studenti quanto più rapidamente possibile verso Visciano dobbiamo avere una buona viabilità che deve mettere in buona continuità le nostre aree industriali con le nostre città e con le nostre uscite autostradali cioè Sarno o Fossi Imperatore si trova in una situazione veramente eccezionale perché sono a pochissima distanza o addirittura a nessuna distanza chilometro zero dalle autostrade tanto per essere chiaro il progetto che noi abbiamo sponsorizzato vede non soltanto la viabilità e la logistica ma anche le aree mercatali per un semplice motivo c'è ci sono città che hanno vocazioni per la produttività e per la produzione di chilometri di produzione a chilometro zero penso a San Marzano penso a San Degidio penso a Sarno qua c'è bisogno di una produzione di una produzione che resti in sito che resti qua ma che resti soprattutto come brand come un nostro brand tipico e poi c'è l'area mercatale di Pagani che è una vocazione internazionale cioè noi abbiamo una nostra una nostra una nostra visione strategica non soltanto delle nostre città ma soprattutto del nostro territorio e allora quale migliore auspicio su queste cose che lei ha detto per chiudere questo appuntamento con lei con il sindaco di Sarno Canfora nonché presidente della provincia insomma diciamo che il domani per questo territorio potrebbe essere più roseo io credo di sì poi siamo per cosa bisogna fare per avere quella certezza bisogna lavorare bisogna lavorare allora bisogna essere fondamentalmente ottimisti bisogna avere la certezza che il bicchiere è mezzo pieno non mezzo vuoto bisogna insistere sulla cultura perché la cultura è la madre di ogni conoscenza è la madre di ogni sapere se io non ho competenze su determinate cose e non le posso avere noi non abbiamo bisogno di tuttologi abbiamo bisogno di persone che sanno leggere il nostro contesto e che sanno affidare la soluzione dei problemi a chi li sa risolvere di questo abbiamo bisogno bene grazie al dottore Canfora per queste notizie che ci ha fornito in questo appuntamento col filo diretto e grazie a voi per averci seguito arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti